Schutzmann, Baggiolini e Granot Martinez in corsia numero 5 LQ Spalma con Toschi, Varesi, Vignana e 400 nelle corsie 23456 Valsugana, Qspalerma, Qscayner, Qspalma e Assindustria Sport Palma sono qui la staffetta 4 per 400 Bizzone Bruna-Celovese della Forestale è attesa in zona vista per le correzioni e se trovano tutti e tre nelle prime posizioni intanto il Cus Palermo con la valeta non è che non mi ricordo voglio fare i punti con l'altra scuola che si trova a questo punto in ultima posizione la quinta di questa staffetta 4 per 400 e poi per quello che riguarda sempre le società sportive il Cus con il numero 11 il Cus Palermo fa vincere questa prima serie della staffetta 4 per 400 metri terza posizione invece per l'astindustria sport a Padova poi il Cus Palermo Sì, non mi ha mai giustato. Siamo prendere acqua, la compagno. Al momento la stoffetta Torri Pavia! Arco! Arco! Catania! Al quinto posto e prima delle società civili con le punti 134 Assindustria Sport Padova! Quarta classificata con le punti 162 Gruppo Sportivo Fiemmerano Padova! Aeronautica Militare! Aeronautica Militare! Aeronautica Militare! Aeronautica Militare! Secondo postoippo-punti- mobane 0-2! C'entraINosto Cat consistentlyve! Ricco applauso a tutti! Sono campioni italiani del 2007, con le volte 203, gruppo atletico Fiamme Celle! Paggia Moni, Celle! Paggia Moni, Celle! Grazie a tutti. Grazie a tutti.